cari amici di mille un'avventura eccoci su retrocampus.com una bbs che ancora adesso nel 2024 si trova disponibile sui nostri computer è anche possibile collegarsi direttamente mediante opportuni artifici con il nostro amatissimo commodore 64 ne abbiamo già parlato tempo fa vedete che una vera bbs ricorda per chi non ricordasse le bbs dell'epoca negli anni 80 ricorda sicuramente il televideo qui però siamo su retrocampus.com e come vedete ci sono notizie giochi file avevamo provato i giochi zork 1 zork 2 avevamo provato questi giochi ma andiamo a vedere le notizie italiane e guardate quante che lungo elenco di sorgenti di notizie di c'è vedete televideo ovviamente open online e così via si scende fino in fondo e si arriva alla y vedete che c'è ready 64 che è stato aggiunto su retrocampus.com quindi premendo y possiamo caricare le ultime notizie di ready 64 vedo che ci sono delle nuovissime notizie soluzioni più manuali della rivista viking 5 poi c'era la notizia su parla basic volume 1 di radio elettra e le scansioni di vari manuali e il nuovo gioco per commodore 64 bronx che non abbiamo ancora provato oltre ai listati di commodore computer club numero 2 quindi se vi perdete qualche notizia di ready 64 qui sulla bbs di francesco sblendorio la potete recuperare vediamo un po la prima notizia le soluzioni più in manuali di viking 5 è una notizia proprio di oggi a rotazione ci sono gli argomenti che ready 64 porta e oggi c'è la collana viking ci sono le soluzioni ci sono varie avventure kenneth johnson team star harry lippi easy rider e trevor scott l'idolo di smeraldo qui non mi sembra si possa riuscire a scaricare qualcosa purtroppo c'è la notizia ma c'è solo la notizia parla anche di altri argomenti la stessa notizia e poi c'è il ringraziamento di francesco per francesco sblendorio per aver incluso le news di ready 64 nella bbs di retro campus da oggi quindi potrete seguirci direttamente su un commodore 64 è una gradita sorpresa e vediamo un po i prossimi aggiornamenti di recuperarli proprio da qui bene visto che purtroppo dalla bbs non si può scaricare la notizia allora andiamo direttamente su ready 64 in formato internet e non in formato bbs ed ecco qui la notizia di cui si parlava la pubblicazione delle soluzioni di tre avventure tratte da e anche i manuali tratti da viking numero 5 proviamo harry lippi easy rider proprio l'inizio vediamo un po di poi c'è ringraziamento per la bbs di retro campus che ha pubblicato la notizia o meglio tutto il l'elenco di notizie allora andiamo un po a vedere di recuperare harry lippi easy rider ecco qui c'è la pagina che ce lo propone con il gioco il manuale il voto 6 non si sono sbilanciati o meglio non si è sbilanciato visto che c'è un voto solo che è sufficiente bene almeno sufficiente lo è qui c'è il manuale si parla appunto degli anni 60 visto che si tratta di harry lippi e il sotto il titolo easy rider evidentemente abbiamo a che fare con un ippi con un figlio dei fiori e nel manuale che poi è il testo che accompagnava il gioco nella rivista si trovano tante informazioni che vanno a rimpinguare un po il gioco perché non c'era tanto spazio per essere così così ampi nelle descrizioni perciò questo è il manuale e allora andiamo a qui il manuale in formato testo vedo che l'ho importato senza le accentate ma pazienza tanto il testo è quello che abbiamo visto prima ed ecco qui viking numero 5 c'è la cassettina c'è la copertina e è stato inserito già da tanti anni vedete l'ultima modifica 18 aprile 2024 le boschi ecco ha fatto il dump di questa della cassetta e proviamo harry lippi lanciamo subito la cassettina l'andiamo a caricare sul nostro emulatore ci sono dei caratteri strani che sono comparsi e ovviamente vedete soggetto e mappa di paolo gentili adattamento e programmazione ovviamente buona avventura di bello assistenza tecnica max di bello 1987 premiamo un tasto per continuare attenzione per far partire il gioco bisogna digitare la parola d'ordine che avete trovato in fondo alla presentazione del gioco stesso sulla rivista ecco noi che abbiamo copiato il nastro e non abbiamo comprato la rivista 10.000 lire dall'87 rimaniamo con dobbiamo metterci a sproteggere tutto oppure andiamo a guardare la rivista eccola qui la rivista digitalizzata 10.000 lire maggio 87 il numero 5 della rivista con tre avventure per cbm 64 quindi commodore 64 o 128 ovviamente e tre per spectrum 48k sfogliamo il vice direttore buona avventura di bello vedete qui e sfogliamo 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 forza vichinghi c'è l'editoriale della redazione andiamo 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 a sfogliare qui ci spiega tutto di tutto di più c'è adventure land con portal varie informazioni team star eccolo qui e qui c'è tutto il testo che avete già visto prima digitalizzato mentre qui lo trovate in originale sulla rivista e vedete che la parola d'ordine per iniziare il gioco è blues quindi scriviamo blues ed ecco che ci troviamo in book street che si estende verso est e verso sud perdendosi in mezzo alle abitazioni mentre verso nord scorgiamo un ampio viale alberato allora andiamo a nord c'è un sempre il viale alberato un via vai di gente affolla il viale e c'è un gelataio col suo carretto allora potremmo compra il gelato non hai il becco di un quattrino addosso cosa fai adesso innanzitutto forse è meglio guardare l'inventario non abbiamo proprio un bel niente allora cosa facciamo andiamo a nord e incontriamo un personaggio e vedete la grafica che rapidamente ha colorato questa scenetta in cui siamo in california street e possiamo vedere una vecchia moto con una ruota a terra un ceco che chiede l'elemosina e un piattino con delle monete allora cosa facciamo ruba le monete le abbiamo rubate diamo un'occhiata all'inventario forse era meglio allontanarsi una moneta da un centesimo basterà un centesimo per comprare un gelato vediamo se tornando a sud poi poi sparito è sparito il gelataio non lo vedo più diamo un po evidentemente non sono tornato non puoi non c'è il gelataio pensavo che fosse qui però vedo a sud scorgiamo uno strano oggetto allora andiamo ancora a sud e c'è questo strano oggetto che è un distributore automatico che facciamo col distributore automatico usa distributore non puoi non sappiamo cosa fare con questo distributore comunque andiamo a vedere e poi ci salutiamo se qualcuno è passato dal mendicante dal cieco e gli ha messo altre monetine così ne raccogliamo ancora quindi andiamo a nord c'è una mappa un po strana qui e diamo un po siamo a sud cioè siamo andati a sud proviamo andare a nord oh c'è il gelataio col suo carretto mi sono perso allora compra il gelato va bene abbiamo comprato il gelato possibile inventario hai con te un delizioso gelato allora mangia il gelato lascia perdere comprometteresti tutto e ci toccherebbe ricominciare da capo il gelato comincia a sciogliersi cerca di muoverti evidentemente il gelato serve per qualcos'altro proviamo andare a nord allora vediamo se qualcuno ha messo qualcos'altro sul piattino del cieco perché dice che c'è un piattino con delle monete allora proviamo a rubare le monete e hai fatto male a riprovarci un poliziotto passando poco lontano ti ha visto chiaramente ora passerai diversi giorni dentro la prigione della cittadina perdendo così l'unica occasione che avevi di unirti alla comunità accampata presso rock town ecco leggendo il testo sulla rivista il nostro scopo era raggiungere la comunità presso rock town e evidentemente la moto con la gomma a terra poteva esserci utile il gelato invece non possiamo mangiarlo peccato avremmo compromesso tutto riproviamo allora no non riproviamo però un giorno ci rimetteremo a giocare allora addio ok bene questo era un avventura testuale gentili di bello che hanno creato questa avventura per viking numero 5 del 1987 e provatela se vi piace così potete decidere se va oltre il 6 che è stato votato su re di 64 o magari che si merita un bel 4 ma sicuramente giocandola con un po più di criterio di come ho fatto io adesso non potremo che dare un bel 8 un 9 o magari anche un 10 al mitico bonaventura di bello a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video o in una prossima diretta ciao a tutti su youtube c'è un canale chiamato mille una avventura che ci insegna a programmare giochi multiplayer lezioni di codice avventure avventure virtuali un mondo digitale pieno di emozioni e speranze mille un'avventura sempre pronta a imparare segui tutorial e prova a creare con il codice e la fantasy insieme a giocare una avventura digitale che non potrà mai finire e non potrà mai finire e non potrà mai finire e 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